Pronto? Ciao Corrado! Ehi Max, come stai? Tutto bene? Bene, bene! Cosa fai di bello? Cosa stai facendo? Ma niente, guarda, stavo lavorando, ma non ti preoccupare, non mi disturbi affatto. Dimmi tu, che dici? Che mi racconti di bello? Ma niente, sto preparando la tournée che parte domani, mi sto preparando solita roba, valigie, inalazioni, aerosol... Figo, bello! Oh, mi raccomando, in bocca al lupo, spacchiamo tutte cose, mi raccomando! Sai cosa pensavo? Pensavo che potresti venire in tournée con me. Ah, bello! Ma a fare che scusa? Canto? No, cantare no. Pensavo di realizzare un backstage del tour, no? Eh. Poi ho pensato, ma sarebbe più figo ancora realizzare un documentario del tour. Eh. Eh, cosa? Tu sei documentarista, fai il documentarista. Max, ora piano con le parole, documentarista. È vero, ho fatto qualcosina, ma non è che sono un documentarista. Poi sto scrivendo il mio film, non posso, mi impegna un sacco. Poi lo senti che voce, lo senti? Ho la febbre. Come si fa? Il medico dice forse un principio di malaria qui del naviglio, una zanzara particolare. Poi, come si fa, Max? Dai, non è possibile. Non ti conviene proprio, perché tanto non lo sa nessuno che sono un documentarista, quindi non è una cosa di cui ti puoi fidare proprio. Fai il documentario del mio tour e lo sapranno tutti, no? Max, guarda, veramente sei gentilissimissimo proprio. Però, come faccio? Non posso proprio. Non posso. Non posso. Senti, ma per curiosità, quanto ci sarebbe? 7000. 7000. Minchia. Eh? Cioè, voglio dire, 7000 sono tanti. Eh? Cioè, voglio dire, sempre, con 7000 euro di budget, si possono... No, non hai capito. Non ho capito. Non sono 7000 euro di budget, sono 7000 chilometri in una settimana. Cioè, è già un titolo forte, è già un titolo che spacca, no? Ah, sono i chilometri. Eh? 7000 chilometri in una settimana. non gli euro. Eh, esatto. Oh, guarda, Corradino, io ti ringrazierò tutta la vita per questa cosa, fighissimo, vedrai che ci divertiamo con dei pazzi. Organizzo tutto, domani mattina arriva Nico a prenderti col monovolume, partiamo insieme e vedrai che ci divertiamo con dei matti. Porta le telecamere e porta tutto, ok? Max, no, aspetta. Max è finito e tornato. Ci vediamo domani, eh? Oh, spacchiazzate. Aspetta, non fare i soldi. Quanto c'è? Max. Non è già chiuso. Documentario sul tour di Max Pezzalimo devo fare. E chi l'avrebbe mai detto? Chi ci avrebbe proprio mai pensato? Chi ci avrebbe proprio... Chi ci avrebbe mai pensato? Speriamo che ha girato questa. Ha girato a posto. No, perché non ci avrei pensato proprio... Non ce l'hai pensato mai a farlo. Ciao. 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 Ciao.